Benvenuti cari amici di mobileOS.it, quest'oggi vogliamo confrontare un dispositivo davvero interessante, lo Zopo 0p99 con il Samsung Galaxy S5, questo perché? Perché praticamente lo Zopo ci ha dato dei buoni risultati, delle buone potenze dal punto di vista hardware e quindi è interessante andare a confrontarlo con il Samsung Galaxy S5. Abbiamo sempre un display full HD, ma naturalmente quello S5 essendo da 5,1 pollici risulta avere più densità di pixel contro i 5,5 dello Zopo 0p999. Abbiamo 16 megapixel di fotocamera per il Samsung contro i 14 dello Zopo, sempre i flash LED, le dimensioni sono sempre a vantaggio di Samsung visto che è un po' più piccolino anche il display e inoltre troviamo 2 giga di RAM sul Samsung, bene 3 sullo Zopo e due tipi di processori differenti, lo Snapdragon contro il Minitech. Non mi soffermerei troppo da questo punto di vista, tanto poi vedrete tutto in articolo con queste differenze tecniche e andrei a parlare proprio direttamente dei due dispositivi. Andiamo subito ad affrontare il concetto internet. Apriamo quindi internet da un lato, l'apriamo anche dall'altro, qui stavo già vedendo Repubblica, stavo già vedendo il nostro sito, vabbè lasciamo aperto le mobileOS. Andiamo direttamente su Repubblica perché su mobileOS.it entrambi si comportano molto molto bene e quindi vogliamo invece andare a vedere un pochino come si comportavano entrambi su un sito desktop e quindi su Repubblica. Allora, qui è già in vista desktop, la richiediamo anche di qua. Vediamo un po' se sarete wifi, chi arriva prima, praticamente uguali. Vediamo un pochino chi è più fluido, un attimo in decisione per lo Zopo. Andiamo giù, andiamo su. Devo dire che però alla fine si comportano entrambi molto bene. Torniamo su, torniamo giù. Qualche, vedete, qualche piccolo errore. Ok, c'è stato proprio un blocco ora sullo Zopo. Non riesco più ad andare né sopra né sotto. In effetti questo mi è successo un po' più spesso, qualche piccolo, qualche leggero blocco sul browser di Zopo rispetto a quello di Samsung. Quindi devo dire che sul browser a mio parere vince Samsung. È leggermente più fluido il S5, più preciso, meno blocchi su internet. È davvero incredibile dire questo, visto la touch, visto gli anni precedenti, ma devo dire che ora è stata davvero migliorata. Quindi molto molto bene. D'altronde stiamo parlando di Samsung con l'Hollipop, nel caso dell'S5. Qui abbiamo ancora la versione Android 4.4.2. Questa è una differenza anche molto importante. Abbiamo solo la 4.4.2, infatti sul Samsung. Scusatemi, sullo Zopo, invece sul Samsung abbiamo già l'Hollipop, una differenza devo dire molto molto importante, la tua band a favore di Samsung. Infatti possiamo vedere come la versione Android della 5.0, qui siamo ancora fermi alla 4.4.2. Entrambi hanno delle particolarità, come le AirGesture da tutte le parti, come alcune feature interessanti, pensiamo sullo Zopo c'è la possibilità di sbloccare il dispositivo con il doppio tocco, disegnare la C per la fotocamera, la E, disegnando la E per andare sul browser, eccetera. Non mi soffermerei troppo, abbiamo già parlato in recensione di questo, il Samsung ha anche il sensore di impianti digitali, ma su questo non mi soffermerei. Per quanto riguarda Toucher e per quanto riguarda la ricezione dei prodotti, entrambi hanno una buona ricezione, sullo Zopo abbiamo la possibilità di inserire anche due SIM, entrambi riescono ad andare in 4G e dal punto di vista del GPS e della batteria devo dire che il Samsung vince nettamente, l'aggancia nettamente più rapido sul Samsung ed è nettamente superiore all'autonomia che è presente sull'S5. In genere riusciamo ad arrivare a circa 3-4 ore in più con l'S5, mentre lo Zopo si ferma intorno alle 18-19 del pomeriggio. Non di più, purtroppo, riusciamo ad affare con lo Zopo. Per quanto riguarda invece la fotocamera, direi di andarci subito da una parte e dall'altra. Ripeto, 16 megapixel con flash LED per il Samsung e 14 megapixel sempre con flash LED per lo Zopo. Lasciamo aperto ora i vari sensori per cardiofrequenzimetri e quant'altro che sono sicuramente a favore di Samsung. Andiamo a trovare la fotocamera, vediamo un po' dove è finita. Eccola qua. Giriamo i telefoni. Allora, l'interfaccia di Samsung, dal punto di vista software, è nettamente superiore. Abbiamo scatti continui, modalità a notte, rivelamento volti, HDR, possibilità di registrare i video in 4K, flash automatico, timer, zoom audio, stabilizzatore con la stabilizzazione video. Insomma, davvero tantissimo. Il tag della posizione, valore di esposizione, griglia, controllo vocale. Per quanto riguarda il Zopo, lo Zopo, purtroppo, un po' di meno. Classico interfaccia Midiatek, purtroppo, un po' migliorata la zoom, ma neanche tantissimo. Insomma, una fotocamera che si ha alcune funzioni in più, forse rispetto ai classici Midiatek, però non convince del tutto. Andando invece a vederci poi le foto che abbiamo realizzato, le vado a prendere anche sul Samsung. Allora, eccoci qua, galleria, galleria di Samsung che come sempre non è che mi convinca più di tanto. Un po' un po' lenta, però ok, ce l'abbiamo fatta. Ecco qui le classiche foto di test. Eccoci qua. Andiamo a prendere le classiche foto di test anche sullo Zopo, quelle che ho scattato. Cercavo di prendere la foto uguale. Eccola qua, proprio quella che cercavo. Beh, le foto sono anche in questo caso nettamente a vantaggio di Samsung. Mi abbiamo una qualità, direi, di gran lunga superiore. Guardate come si riescono a vedere molto meglio i dettagli del rubinetto, ve l'avvicino, sul Samsung. Ok, scusate, mi ho premuto per sbaglio, me ne stavo avvicinando. Sul Samsung, guardate qui, i dettagli rispetto allo Zopo. Cerco di ingrandirlo più o meno alla stessa... più o meno, ok, questo è anche un po' più piccolo, ma di più non va. Vedete come si riesce a vedere molto peggio il... scusatemi, molto peggio, si vede male, non la stessa qualità rispetto all'S6. Quindi, devo dire, una fotocamera che mi convince anche di più sull'S6, scusatemi, sull'S5, se si va a vedere come si comportano poi in notturna. Beh, in notturna, devo dire che lo Zopo si comporta bene, comunque si difende, ma il Samsung riesce ad essere comunque superiore. I dettagli sono letteralmente più nitidi e più facili da visualizzare rispetto allo Zopo. Una buona fotocamera, ma che non riesce a raggiungere quello del Samsung, d'altronde ci sono circa il doppio dal punto di vista del... per quanto riguarda il prezzo di differenza tra l'uno e l'altro, anche se ormai si è limato questa differenza, visto che il Samsung si trova l'S5 ormai si trova intorno ai 4, 4,50 e lo Zopo si trova sui 2,99. Bene, abbiamo parlato quindi anche di fotocamera, andiamo a parlare un attimino di display, perché è interessante parlare di display, abbiamo un 5 pollici full HD, anzi 5.1 per quanto riguarda il Samsung Galaxy S5 e un 5,5 HD invece, scusatemi, full HD per quanto riguarda invece lo Zopo. Allora, per quanto riguarda il Samsung, andiamo a prendere le classiche foto di test, eccole qui, le andiamo a prendere anche sullo Zopo, eccoci qua. Giudicate voi la differenza, i colori sono sicuramente un pochino più vivi, un pochino più vivaci sul Samsung rispetto allo Zopo. Questo è proprio di concezione il dispositivo, si possono comunque fare diverse modifiche ai colori e alle temperature sul Samsung, per quanto riguarda i bianchi, devo dire che sono buoni su entrambi, però sul Samsung il sensore di luminosità funziona molto molto meglio, riesce a settare molto meglio la luminosità sotto la luce diretta del sole. Per quanto riguarda i neri, invece, beh, direi che siamo nettamente a vantaggio di Samsung, praticamente abbiamo dei neri perfetti contro neri, direi, abbastanza tententi al grigio sullo Zopo. Bene, direi quindi che da questo punto di vista vince anche Samsung. Beh, direi che come stiamo vedendo, Samsung quasi su tutti i punti riesce ad essere leggermente superiore rispetto allo Zopo, d'altronde potevamo aspettarcelo visto il prezzo superiore. Devo dire però che dal punto di vista della fluidità generale e dal punto di vista di quanto abbiamo aggiunto su AnTuTu sostanzialmente siamo lì, abbiamo 45.000 punti all'incirca per entrambi e dal punto di vista della fluidità generale lo Zopo si comporta benissimo, aiutato forse anche dal giga in più di RAM rispetto al Samsung. Devo dire che da questo punto di vista entrambi i telefoni sono su livelli eccellenti e sinceramente non riesco a trovare uno dei due che sia migliore dell'altro. Entrambi permettono di leggere chiavette, entrambi hanno il LED notifica, la retroilluminazione dei tasti e Samsung ha anche il tasto fisico, invece il Zopo ha la home soft touch. Per il resto devo dire che per quanto riguarda mail, per quanto riguarda GPS abbiamo già detto, audio nettamente a vantaggio di Samsung, anzi deve andarcelo a sentire un attimino l'audio, facciamo anche questo piccolo test, andiamo un attimino sul play music, andiamo su musica, facciamo partire magari prima lo Zopo che ce l'ho già qui, volume massimo, ok, un audio non elevato, se si mette il telefono sul tavolo si abbassa, quindi un po' così così. Molto meglio sul Samsung, ci andiamo infatti a sentire subitissimo, potente e letteralmente superiore. Niente, il Samsung è superiore anche per quanto riguarda l'audio. Per quanto riguarda invece la giocabilità, andiamo ad aprire Geek Tracing 2 su entrambi, lo Zopo è già pronto perché ci stavo già giocando, quindi possiamo ripartire tranquillamente. Beh, sulla giocabilità devo dire che entrambi se la cavano perfettamente e quindi non ci sono grandi differenze da questo punto di vista. È praticamente fluidissimo il dispositivo cinese, abbassiamo un po' il volume altrimenti non ci sentiamo. Dicevo, è fluidissimo il dispositivo cinese e risulta essere fluidissimo anche il Samsung. Quindi diciamo che sulla potenza telefono, del telefono, quindi la potenza hardware dei due prodotti, siamo davvero lì, non trovo grandissime differenze. Sia sui giochi, sia sulla fluidità generale, siamo lì. Forse il browser, ecco, è un pochino avvantaggio di Samsung, ma con Chrome su tutti e due i telefoni, sinceramente, questa differenza si assottiglia. Per il resto, poi per la fotocamera, così facciamo anche un po' un restoconto generale, per la fotocamera, per l'audio e soprattutto per l'autonomia, beh, il Samsung risulta essere nettamente superiore, soprattutto sull'autonomia, davvero lo Zopo mi ha un pochino deluso. E sul prezzo, beh, ormai diciamo che si è limata la differenza, come vi ho già detto prima, tra i due dispositivi. Diciamo che ormai c'è una differenza di circa 150 euro tra i due e, beh, a voi la scelta è scegliere l'uno o l'altro. Sicuramente le dimensioni sono a vantaggio del Samsung, che è molto più compatto, sia in fatto di dimensioni, sia in fatto di peso. Bene, direi quindi che abbiamo concluso qui il nostro confronto, la nostra analisi tra questi due prodotti, vi ho fatto vedere quali erano le differenze principali tra lo Zopo e l'S5, a voi la scelta. Un saluto cari amici di MobileOS.it. Ciao!